Amici di Alltours, oggi parliamo della Formula Roulette in Sardegna. Ma che cos'è la Formula Roulette? Un modo per poter prenotare la tua vacanza in Sardegna senza rinunciare a nulla e con uno sconto del 50%. Perché tutti la scelgono? Perché è semplice, veloce e conveniente. Bene, ti spiego come fare. Vai sul nostro sito, scegli la Sardegna come meta e ti spunterà come prima voce Sardegna Formula Roulette. A questo punto scegli le date della tua vacanza e prenota. Al resto ci pensiamo noi. 48 ore prima della tua partenza ti comunicheremo il nome dell'hotel. La scelta è tra hotel di categoria 4 stelle, tutti top club. Strutture eleganti, con trattamento soft all-inclusive, colazione, pranzo e cena, oltre all'open bar, dalle 10 alle 23. Tutti con animazione per adulti e per bambini. La nostra offerta include anche il servizio spiaggia e le tessere club. Non sai come arrivare in Sardegna? Non c'è problema, Alltours ti dà anche il pacchetto nave più auto per tutta la famiglia, a prezzi mai visti. Buona roulette a tutti! Grazie a tutti!